Sì, certo che a fine partita rimaniamo un po' dispiaciuti perché la partita l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo gestita noi. Poi abbiamo calato l'attenzione un attimo e quello ci ha fatto prendere il gol. Queste sono cose su cui dobbiamo lavorare perché se continuiamo così i gol li prenderemo. Dobbiamo stare attenti dal primo fino al novantesimo e non creare l'attenzione quando c'è l'occasione. Dobbiamo stare concentrati. Prova positiva soprattutto nel primo tempo della squadra, un po' meno nella ripresa. Oggi non c'era Campagnaro, hai giocato, sei tornato a giocare al fianco di Perrotta, come ti sei trovato? Io che gioco con Campagnaro e che gioco con Marco mi trovo bene con tutti e due, quindi non c'è se giochi con uno o con l'altro fai bene o fai male. Con tutti e due sono gente con cui ti alleni tutti i giorni, quindi anche se giochi con uno o con l'altro fai bene lo stesso. I cartellini gialli penalizzano un po', che cosa è successo con Ardemagni quando siete andati un po' allo scontro dove hai preso l'ammunizione? Con Ardemagni non è successo niente, sono solo momenti della partita quando ti nervosisci un po', sono cose che succedono, però non è successo niente. C'è un po' di delusione fra i tifosi dopo questo pareggio, però questo è un punto che consente al Pescara di muovere la classifica, di restare al secondo posto, che perché oggi avete trovato di fronte un Ascoli che si è dimostrata a formazione ostica, come si pensava alla vigilia? Abbiamo fatto questo punto e ce lo prendiamo. Il weekend prossimo c'è un'altra partita, una partita in cui dobbiamo provare a vincere. Su quella partita di oggi la Scoglia è arrivata determinata per vincere, come dicono tutti i derby non si giocano, si vincono e loro sono venuti con l'accesamento lì. Poi è finita 1-1 e vedremo a ritorno cosa succederà.